Ma noi qui siamo gente di pianura, navigatori esperti di città Il mare ci fa sempre un po' parola, per quell'idea di troppa libertà Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità E donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa Gente di mare che se ne va, dove gli pare, dove non sa Gente che muore di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore, per la voglia di andare via Grazie a tutti 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 avere osservato e rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare. In particolare quali sono, se vogliamo elencare, per spiegare cosa richiedete? Nel momento in cui procediamo a fare le verifiche nelle strutture balneari iniziamo innanzitutto a osservare la presenza del bagnino che deve avere delle dotazioni importantissime per il suo compito. Ci occupa del salvataggio lui praticamente, quindi avrà una dotazione personale a partire da che cosa? Innanzitutto staziona su una torretta? Sì assolutamente, di massima dovrebbe stazionare sulla torretta che deve essere collocata al centro della struttura balneare in maniera tale da consentirgli un'ottima visibilità nello specchio acqui che si trova di fronte alla struttura balneare. Deve essere facilmente distinguibile fra tutti i bagnanti, deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso con la scritta salvataggio di colore bianco e deve avere delle dotazioni nell'immediata disponibilità quali il fischietto, il binocolo, le pinne, la maschera e anche deve avere nelle vicinanze un pattino da utilizzare per intervenire a prestare soccorso al bagnante in difficoltà. Quindi il famoso pattino che noi vediamo in spiaggia è obbligatorio e deve recare anche la scritta salvataggio? Anche il pattino deve recare la scritta salvataggio e anche esso deve avere delle dotazioni ad esempio scalmiere, remi, mezzo marinaio, ancorotto, tutte ripetiamo delle dotazioni che sono comunque riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare e che sono fondamentali nel caso si dovesse verificare una situazione di emergenza di pericolo per un bagnante. Fra l'altro, non di meno importanza, all'interno della struttura balneare è previsto un locale adibito a primo soccorso. Nell'eventualità dovesse esserci un bagnante che magari sta poco bene o un bagnante che ha avuto un principio di annegamento, deve essere trasportato in questo locale dove ci sono delle dotazioni di sicurezza. Diciamo che ci dovrebbe essere una cassetta medica anche, no? Dove si trova tutto quel materiale che normalmente in caso di infortunio si interviene, no? Sì, deve esserci una cassetta medica rente all'interno dei medicinali, così come è previsto dal decreto del Ministero della Salute. Devono esserci anche tre bombole di ossigeno da un litro caricate a 150 atmosfere o due bombole di ossigeno da due litri caricate a 200 atmosfere con altre dotazioni di soccorso da utilizzare in caso di soccorso che magari vedremo nel corso dell'ispezione che adesso faremo all'interno dello stabilimento. Perfetto, allora andiamo insieme al Maresciallo Surace a vedere questa ispezione all'interno del Lido, siamo a Rocciola Ionica, Lido e Le Stelle. Ok, iniziamo a entrare all'interno dello stabilimento e obbligatoriamente devono avere delle tabelle che riportano ai loro clienti, andando più avanti devono essere delle tabelle che indicano i numeri utili. Ecco, innanzitutto abbiamo una tabella che non è obbligatoria ma forse sì sulla bandiera blu che indica tutte le informazioni sulla ballenabilità dell'acqua. Esatto, questa è una tabella che comunque viene richiesta dal comune, in questo caso di Rocciola Ionica, che a loro volta con l'ordinanza balneare va a disciplinare degli altri aspetti che sono di competenza appunto del comune. Invece c'è un'altra tabella. Esatto, questa che vediamo è appunto l'ordinanza balneare, la numero 8 2017, è messa in data 6 giugno 2017 che deve essere obbligatoriamente esposta da tutti gli stabilimenti balneari. Cosa contiene questa ordinanza? Tutte le regole? Tutte, assolutamente, tutte le regole che gli stabilimenti balneari devono osservare, ma non solo, disciplina anche delle materie di natura ludico-sportive, va a disciplinare anche la... Io noto alla fine, scusa maresciallo, il decalogo del bagnante, cioè ci sono dei punti, dei dieci punti che debbono essere osservati. Esatto, sì, come stavo dicendo, dà anche delle informazioni al bagnante sulle norme da osservare e anche sulle informazioni che è opportuno sapere per una propria cautela nel rispetto della convivenza all'interno della spiaggia privata dello stabilimento balneare. Un'altra norma importante contenuta sempre nell'ordinanza sono quelle che praticamente nella fascia radio dalle 8 alle 20, che sarebbe la fascia radio in cui è valida la presente ordinanza balneare, ci sono dei divieti anche per esempio per la pesca sportiva, quindi soprattutto nella fascia riservata all'abbalneazione, che sarebbe la fascia dei 150 metri, vedremo che ci sono dei divieti che non è possibile appunto effettuare attività di pesca sportiva nella zona riservata all'abbalneazione, c'è il divieto di transito con le unità motore. Aresciallo, questa è la prima cosa che voi controllate, se è fissa questa ordinanza, è esposta e se è consultabile, poi come si procede? Andando avanti ci sono delle altre tabelle, come dicevamo prima, i numeri utili. Quindi i numeri utili. Poi ci deve essere anche un'altra tabella che sicuramente sarà esposta nei pressi della postazione balneare, è un'altra tabella riportante il significato delle tre bandiere che l'assistente bagnante può issare a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Le bandiere le vediamo appunto anche esposte sull'ordinanza, le vediamo adesso nell'ordinanza e poi le vediamo giù, sono la bandiera bianca, la bandiera gialla e la bandiera rossa. Andando giù, ci spostiamo giù, andiamo a vedere la presenza del bagnino che si trova sulla torretta, che vediamo lì. Quindi noi ora ci spostiamo, qui è la parte più ricreativa, quindi diciamo quella dove stazionano i bagnanti, c'è anche il posto per pranzare e per cenare e poi ci spostiamo ora praticamente nella battigia. Sì, andando sulla battigia, intanto vediamo che lo stabilimento a bandiera ovviamente deve essere delimitato nel rispetto della concessione demaniale che gli è stata autorizzata. Quindi noteremo dei piloni, diciamo così, con delle corde che delimitano da una parte all'altra lo stabilimento balneare. Ovviamente deve corrispondere tutto a una determinata metratura, vero? Assolutamente sì, questi sono dei controlli che sono anche di nostra competenza. Quindi voi che fate? Misurate ora? Misuriamo le estremità. Deve corrispondere che cosa? La superficie totale? Non è importante la lunghezza o la larghezza, ma quanto la superficie finale? Sì, è importante. Nel senso che ogni struttura decide se farlo lungo o largo? Beh, queste sì, sono delle, ripeto, tutto prescritto nell'ordinanza balneare che viene messa dal comune. Comunque ovviamente i confini devono essere rispettati, ci sono dei margini che possono essere, dei margini di tolleranza nel caso di erosione delle spiagge. Tipo se il mare sale, diciamo, e quindi la spiaggia si accorcia, si va in larghezza? Sì, lo stabilimento può essere autorizzato sempre dal, non lo fa arbitrariamente il titolare della concessione, lo stabilimento può essere autorizzato ad allargarsi per un massimo di 12,50 metri da ambo le estremità laterali. Fino a 24 metri in totale? 25. 25 metri, sì. Ora ci spostiamo. Appunto vediamo subito intanto le tabelle che dicevo prima. Ecco, se l'operatore si volta, ci sono due tabelle. Allora, eccole qua, queste tabelle. Bandiera di emergenza. Sì, abbiamo la bandiera bianca che viene issata quando c'è la bagnazione sicura, la bandiera gialla nel caso di vento forte, e in quel caso ci sarebbe anche la prescrizione eventuale di chiudere gli ombrelloni, sempre per la sicurezza dei bagnanti, e poi la bandiera rossa che viene issata quando la bagnazione non è sicura, quindi le condizioni meteomarine sono stravorevoli, e anche nel caso di assenza del bagnino. Però questo è un caso un po' particolare che magari vediamo successivamente, perché ci sono anche delle altre prescrizioni che il titolare della concessione deve osservare. Allora, i bagnini sono in stretto contatto con voi. Ora andiamo a conoscere e a vedere la presenza del bagnino, che è obbligatoria da che ora a che ora? La presenza del bagnino è obbligatoria dal momento in cui la concessione balneare apre, che possono già essere anche le 8 del mattino, fino all'ora di chiusura sempre della concessione balneare. Diciamo che l'ordinanza balneare dà queste prescrizioni dalle 8 alle 20, quindi eventualmente se la struttura balneare resta aperta, ci deve essere sempre, obbligatoriamente, la presenza del bagnino. Quindi dalle 8 alle 20, se la struttura è aperta, il bagnino in maniera continuata deve essere presente. Non lo stesso probabilmente, no? Sì, poi sarà questo compito del titolare, e magari assumere più di un bagnino per consentire un'adeguata turnazione di riposo, direi, considerando anche il lavoro che svolgono particolare, insomma, e anche con queste temperature abbastanza elevate. Non è semplice, non è semplice. Anche perché il bagnino è obbligato a stare in quella torretta che noi vediamo inquadrata, anzi, noi possiamo avvicinarci, così scendiamo direttamente in spiaggia. Ecco, allora, questa è la torretta dove il bagnino praticamente staziona. Sì, questa è la torretta dove il bagnino staziona prevalentemente. Ovviamente può anche osservare che i bagnanti e i clienti della concessione balneare siano in condizioni di tranquillità, se è noto una situazione di pericolo, oppure deve segnalare qualche cosa, essendo munito di fischietto, come abbiamo detto poc'anzi, e ovviamente ha l'obbligo di richiamare il bagnante a osservare le regole che sono riportate, come abbiamo detto, nell'ordinanza balneare. Scendendo giù, sono importantissime lo stabilimento di bagnante e le boe di delimitazione, che sono di due colori, appunto come vediamo, le boe di colore bianco, che delimitano le acque sicure, praticamente sono collocate a un metro e sessanta di profondità. Sono appunto le definite acque sicure per magari i bambini o per il bagnante che non è molto abile come capacità natatorie. Quindi, diciamo, chi non sa nuotare dovrebbe stare nel limite delle boe bianche. Invece, andando un po' più a largo, notiamo le boe di colore rosso. Quelle boe rosse in fondo? Quelle boe rosse che praticamente sono collocate a 150 metri dalla battigia e delimitano le acque invece riservate alla bagnazione. Quello è un confine importantissimo, perché appunto all'interno di questo confine sono vigenti le regole prescritte nell'ordinanza, come è vietato ad esempio l'ingresso delle unità a motore. Esiste un corridoio per poter portare una barca? In questo stabilimento per l'esattezza non esiste il corridoio di lancio. Però potrebbe esistere? Potrebbe esistere. Non è obbligatorio? No, non è obbligatorio. All'interno del corridoio di lancio, che invece è delimitato, nel caso in cui lo dovessimo trovare, con dei cavitelli di colore giallo collocati a una distanza fra di loro di circa 20 metri. Lo stesso deve avere invece un'ampiezza di 10 metri circa e consentire il transito delle unità a motore, ovviamente a lentissimo moto, senza arrecare pericoli all'incolumità dei bagnanti presenti. Invece, come dicevamo, all'interno dei 150 metri è vietata anche la pesca, ogni forma di attività di pesca. Anche il pescatore subacqua, per esempio, che entra in acqua per fare attività di pesca, deve assolutamente avere il fucile scarico finché non supera la fascia riservata alla balneazione. I cavitelli di colore bianco, come vediamo, sono collocati invece a una distanza di 5 metri l'uno dall'altro, quelli di colore rosso a una distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Ovviamente, qualunque imbarcazione deve osservare queste regole per evitare di nuocere ai bagnanti. Sì, sì, assolutamente. Il bagnante deve avere la tranquillità di effettuare la balneazione, le unità ad emi, invece, possono, o i pattini, i OLED, si possono aggiungere fino a Riva. Nella fascia dei 150 metri è consentito il transito soltanto alle unità di polizia o se dovesse esserci, insomma, un'emergenza, esatto. Ecco, noi intanto vediamo che qua in dotazione, lo facciamo vedere, esattamente un salvagente. Non è un salvagente normale, innanzitutto non è gonfiato. No, questa è una ciambella che è una ciambella conforme alle normative vigenti. Vediamo che è legata a una cima avvolta su un rullo. È legata a una corda, quindi in caso di mare... Intanto conosciamo il bagnino, che è il bagnino di questa struttura balneale che stiamo verificando. Ti chiami? Giuseppe. Ecco, Giuseppe, tu dove sei? Di Locri. Di Locri. Ecco, per diventare bagnino, come si diventa Bagnini? Ci vuole tanto coraggio, tanta forza di volontà e sperare che non accada mai l'imprevedibile. Ecco, tu hai preso un patentino per diventare appunto... Ho preso il brevetto di salvataggio nel 2011. Quindi è un brevetto, fate dei corsi e poi un esame finale, come funziona? Si fa il corso e poi si fa l'esame finale dove c'è l'esame del BLS, c'è la prova per il salvataggio vero e proprio, dopo il recupero e il salvataggio della persona. Quindi voi praticamente vi addestrate per portare, avere anche una forza fisica per trasportare le persone in arrivo? Certo, assolutamente, non è uno scherzo. Siete responsabili di quello che accade qua intorno? Di tutta la spiaggia, fino alle boe rosse, ma anche oltre se succede qualcosa. È chiaro, ascoltami, è una grande responsabilità, specialmente per i più piccini. Sempre, ma grazie a Dio i piccini sono anche controllati dai genitori perché sono tanti, però noi siamo sempre vigili e attenti. Ecco, un buon bagnino non deve mai distogliere gli occhi dalla spiaggia, vero? Mai, assolutamente, perché da un momento all'altro può accadere di tutto. Ecco, tu fai dei turni ovviamente, o riesci a coprire tutta la giornata? No, faccio dei turni, la mattina c'è il mio collega, il pomeriggio ci sono io. Anche per rimanere lucidi, come diceva il maresciano? Assolutamente, perché dopo tante ore è difficile stare sempre con lo sguardo attento. Sotto il sole, senza potersi neanche fare il bagno? Eh, infatti, è dura. È dura. E ascolta Giuseppe, ti volevo chiedere questo, salvataggio sempre pronto il patino? Salvataggio sempre vicino alla riva, in caso di necessità deve essere sempre pronto, armato con il salvagente. Ecco, e invece il fischietto a cosa serve? Il fischietto serve in caso di pericolo per avvertire i bagnanti. Quindi che cosa potrebbe capitare? Un'onda anomala? Un'onda anomala, meduse, qualsiasi cosa. Ecco, ascolta, e invece, ora dicevamo fra poco dovevi stare la bandiera gialla, perché la bandiera gialla? La bandiera gialla per il forte vento. La bandiera gialla è in occasione... È un pericolo il vento? Il vento è un pericolo, perché è un pericolo per i bagnanti, è un pericolo anche per i signori che sono all'ombrellone. Ascolta, e invece quando è che esista la bandiera rossa? La bandiera rossa esista quando le condizioni del mare non permettono ai bagnanti di poter fare il bagno in piena sicurezza. Quindi anche quando, per un qualsiasi episodio, il bagnino si assente? Anche se io mi assento a dieci minuti, cinque minuti, metto la bandiera rossa per segnalare la mia assenza. L'assenza, ascolta, è una spiaggia tranquilla, un mare tranquillo, possiamo dire che i bagnanti sono abbastanza educati? Sì, i bagnanti sono educati, sono tutte persone per bene, ci lasciano fare il nostro lavoro in maniera perfetta. Ecco, voi sconsigliate l'utilizzo di confiabili quando c'è questo vento? Quando c'è forse vento, i confiabili sono molto sconsigliati perché trascinano le persone con loro, quindi... Quindi è un pericolo... Invece, quando ci sono situazioni di mare agitato, ovviamente sconsigliate proprio il bagno? Con il mare agitato il bagno è sconsigliato. Quindi ai cavalloni bisogna starci attenti? I cavalloni li dobbiamo evitare. E poi ti lasciamo, naturalmente tu vigili nel tuo orario che tutto vada per il meglio. Possiamo dire anche cosa è vietato, cosa impedisci di fare il suo, per esempio giocare a pallone è possibile? Giocare a pallone non è possibile, in spiaggia non è possibile, non è possibile la presenza dei cani. Qua a Rocella abbiamo una spiaggia apposita per i cani e per i signori che vogliono portare il proprio animale. Benissimo, allora ti auguriamo buon lavoro, con la speranza che i tuoi interventi siano pochi. Siamo proprio nulli. Grazie ancora. Maresciallo, abbiamo ascoltato il giovane Bagnino, ha spiegato anche quali sono i suoi principali compiti. Sì, sì, assolutamente ha spiegato bene. Uno dei suoi compiti è anche quello di vigilare che la fascia di 5 metri, come vediamo, dall'ultima fila degli ombrelloni sia lasciata libera. Quindi questa fascia, 5 metri, è obbligatoria? Assolutamente sì, anche questa è una delle prescrizioni dell'ordinanza. È obbligatoria perché serve per favorire la sicura bagnazione e anche per favorire le eventuali operazioni di soccorso. Quindi l'ingresso è l'uscita dall'acqua dei bagnanti, ma anche per le operazioni di soccorso, quindi il recupero bagnante in difficoltà. Quindi questo passeggio, diciamo, tra virgolette, deve essere garantito? Sì, sì, assolutamente sì, deve essere garantito. Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente 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 sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Maricello Surace, abbiamo concluso questa ispezione, possiamo dire che qui com'è andata? E' andata abbastanza bene, fortunatamente lo stabilimento balneare rispetta tutto quanto prescritto dall'ordinanza balneare. A volte purtroppo invece ci troviamo in situazioni in cui nel momento in cui effettuiamo l'accertamento riscontriamo delle inosservanze da parte del titolare dello stabilimento balneare, a volte inosservanze anche gravi se così possiamo definirle, una che si verifica frequentemente è l'assenza del bagnino che magari viene anche utilizzato per effettuare altre attività. Questo non va bene? Assolutamente no, non va bene, il bagnino deve essere l'occhio della Capitaneria di Porto, deve essere sempre vigile e osservare che venga garantita la sicurezza della balneazione. Nel momento in cui ci riscontriamo delle anomalie nello stabilimento balneare, purtroppo siamo costretti ad effettuare la contestazione amministrativa. Che tipo di sanzioni sono previste per esempio per l'assenza del bagnino? L'assenzione prevista ai sensi dell'ordinanza balneare e anche del codice della navigazione va da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 3.098 euro. Così poi come previsto dalla legge 6.89 dell'81 il titolare della concessione del bagnino marittima ha facoltà di proporre ricorso al capo del compartimento marittimo che nel nostro caso è la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Questo ricorso può essere fatto dentro 30 giorni dalla contestazione, mentre dentro 60 giorni può effettuare il pagamento ridotto della sanzione amministrativa. Ecco allora io noi ringraziamo naturalmente il maresciallo Surace per cui ci ha consentito di ispezionare anche virtualmente, televisivamente l'abbiamo fatto, una struttura balneare. Cari telespettatori avete capito quello che è importante che in ogni struttura ci sia, principalmente per la salvaguardia della sicurezza in mare di chi ne usufruisce, quindi dei bagnanti. E poi naturalmente anche perché gli obblighi consentono di stare nel pieno rispetto delle regole, cosa fondamentale per poter continuare ad operare anche come concessionari, insomma è importante anche questo. Noi vi ringraziamo, ovviamente specifichiamo che gli obblighi per le bandiere blu sono aggravate, vero maresciallo? Assolutamente sì, nella fattispecie la Capitaneria di Porto nel momento in cui rileva delle infrazioni interessa l'ente comunale per le prescrizioni anche da parte dell'ente comunale. Si può arrivare anche alla temporanea chiusura dello stabilimento balneare fino al ripristino delle condizioni necessarie. Grazie a tutti! 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 Buon saluto e buona permanenza nella Locride! Grazie a tutti! 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 le parti d'Europa e non solo incontriamo Vincenzo che avevamo ascoltato già lo scorso anno e ti avevo definito l'ultimo pescatore e così sei rimasto veramente l'ultimo? Mi sembra di sì, non vuole nessuno più fare questo mestiere. Ecco io è l'unica barca singola al di là dei pescherecci rimasta, come si chiama la barca? L'imbarcazione si chiama Motopesca Sisoni. In onore del nonno, del papà? Del mio papà sì, lo chiamavano così. Eh vabbè Sisoni era conosciuto ed era anche un simbolo per chi si avvicinava al mare no? Sì è vero, è stato un uomo di mare sia a livello della piccola pesca sia a livello che era imbarcato più da giovane sulle navi costa, ha girato il mondo diciamo a livello di mare. Una esperienza straordinaria sul mare, vi ha trasmesso questa voglia di pescare? Diciamo che sì, perché lavoro non c'è, non c'è altro, siamo una famiglia cresciuta sul mare e quindi direi che ci spostate dal mare e ci spostate alla vita. Quindi a te piace questo lavoro? Sì sì, lo faccio con piacere. E senti è dura vero? Nel senso che le regole ci sono, vanno osservate e nello stesso tempo poi voglio dire non sempre la pesca è profica. Sì, la comunità europea ha già approvvito la sciabbaca diciamo con il cicerello, il bianchetto che era un appoggio d'inverno, si prendevano più soldi d'inverno che d'estate con il bianchetto, bianchino come lo volete chiamare diciamo così. Poi ha approvvito un po' di tonni, è un casino. Comunque ci arranciamo così. Sentimi, ti arranci e i sacrifici sono tanti perché tu esci la notte vero? Sì, usciamo alle tre, facciamo una caletta a triglie e poi magari un'altra pesce pettine e vediamo cosa si trova nel mare, è un'avventura ogni volta che esci. È una sorpresa, non sappiamo quello che rimane impigliato nelle reti. Sì, non sa neanche dove finire, peschiamo lungo tutta la costa, diciamo di notte giriamo sempre. Dove partite? Direttamente qua dal porto, vicino al porto? Sì, partiamo da qua e poi a secondo anche l'annata del pesce si può trovare. Anche fuori paese, nel senso tu parti dal porto di Rocella, arrivi a Marina, a Silerno oppure no? Fino a Monestaraci arrivo sicuro, diciamo, sì sì, e fino a Gioiosa che dopo c'è la fossa, il fondale, la barca nostra non pesca, diciamo, con le nostre attrezze pescature. Quindi bisogna trovare un fondale basso per questo tipo di barca? Si deve trovare un fondale basso e il fondale dove il pesce in questo periodo va. Non è che lo trovi sempre, per esempio, a otto braccia, nove braccia, delle volte... Una braccia che cos'è? Quanti metri sono per capire? Allora, un braccio del pescatore è un metro e mezzo, cioè un passo lo chiamiamo noi, andiamo a passi, non a metri. Sono 16 metri circa? Sì, una cosa così, più o meno, diciamo. Avete il vostro metodo di misura? Sì, il filazzolo. Il filazzolo, che è un metro e mezzo circa? Sì, no, il filazzolo è lo scandaglio di mare, te lo faccio vedere. E la barca come si chiama questa? Avevi detto il nome? La barca si chiama come mio papà, Sisone. Sisone, quindi a bordo Sisone. Ecco, questo qui che cos'è? Questo è una rete incastellata per le triglie, questo è il filazzolo, lo chiamiamo noi, dove misuriamo il fondale a passi, così. Uno, due, capito? In base a questo noi ci regoliamo la profondità. Quindi questo va a fondo? Questo va a fondo e misuriamo la profondità, o la corrente del mare pure. Perché si sposta da una parte o da un'altra? Sì, 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 la corrente del mare. Senti, dal punto di vista, questa è una delle attrutture importanti per capire... Questa è la prima cosa che deve avere a bordo uno, per vedere dove sei, dove non sei. Adesso ci sono le coscandaglie. Diciamo che con gli strumenti, questo si truisce le coscandaglie, mostriamolo, ecco, questa è una maniera molto semplice per capire a che distanza c'è il fondale. Quindi il pescaggio, come si dice, no? Adesso ci sono tutte le coscandaglie, cose, ma io non mi trovo, mi trovo solo con questo, un metodo antico. Un metodo antichissimo? Sì, questo è un metodo antico. Quindi questo non deve marcare nessuna barca? No, questo lo butto a mare, questo va a fondo e masuri tutta la profondità dove vuoi andare. Delle volte che vuoi, va un metro o meno, secondo la corrente, che ti butta, non è che abbiamo l'ecoscandaglio. Anche l'ecoscandaglio non è che la barca la cammina. Trovi pure la profondità, ma io mi trovo con questo. E il secondo strumento invece che ci debba essere a bordo, qual è? Viaggiate di notte, quindi... Lo strumento io ho solo le luci. Quindi queste luci qua? Sì, ho le luci di posizione verde e rosso e il bianco centrale a 360 gradi. Senti, ma questo non è pure la lampara che si accende? No, no, posso andare anche con la lampara, però dov'è l'equipaggio per andare. Cioè la lampara vi agevola, la luce vi agevola, avvicina il pesce? Sì, sì, però non è un tipo di pesca che io faccio, perché non trovo l'equipaggio adatto. Perché tu ci fai da solo? Sì, io purtroppo vado da solo perché non c'è nessuno che fa questo mestiere. Quindi non c'è resa andare in più persone, bisogna dividere poi quello che si pesca, no? No, ma non è questo il fatto che invece di stare a pescare due ore, diciamo, peschi quattro. Però non c'è nessuno che si avvicina più a questo mestiere. Quindi non hai trovato persone che vogliono venire con te? Non c'è proprio nessuno. Quindi esci solo contro il tuo rischio e il pericolo, perché minimo di rischio c'è uscire in barca da solo, no? Sì, diciamo che c'è anche la guardia costiera che adesso comunichi l'uscita e l'entrata del porto, che è una sicurezza, che sai se sei a mare o... cioè è una sicurezza per noi altri pescatori. Senti, e quindi esci da solo, che fai? Getti le reti e continui a camminare? Con un sacco finale hanno le reti, hanno un sacco, no? No, li butti in posta, così, diritti e poi cambi cala, a seconda della corrente. Cos'è la cala? Cioè la cala la chiamiamo... che ti devo dire? Cioè fuori l'anterna è già una cala per noi, fuori la trazza che riace un'altra cala, diciamo... Ah, le zone sono? Sono le zone che hanno pure un soprannome antico, diciamo, per noi. Quindi anche le zone del mare hanno dal punto di vista un nomignolo? Sì, barruca, diciamo, il trubolo, che ti devo dire? Sono delle zone antichissime che ci siamo tramandati dove fanno le cale o facevano le cale del pesce. Intanto incontri qualche tuo collega pescatore, come si chiama il tipo di barca, il tipo? Il tipo di barca è una barca da pesca, una motopesca, diciamo. Il dialetto come si chiama? Varchiceio. Varchiceio o sciabacheio, no? No, sciabacheio è un altro attrezzo da pesca, che è proibito proprio. Quindi varchiceio? Sì, o varca. E questo è fatto tutto in legno, vero? Costruito a mano? Questa è costruita, è stata costruita a Scilla, questa qua, nel cantiere di Scilla. Infatti se tu vedi la prua è a motonave, esce da Scilla. E poi da qui che succede? Cioè nel senso la manutenzione, dovete farla tutto voi? Manutenzione noi la portiamo su a novembre, a secondo, quando rompono i tempi, diciamo, e poi riprendiamo a gennaio il tempo delle seppie, facciamo tutto il pitturaggio, manutenzione sotto, l'alaggio, diciamo. La portiamo su. Dovete farla ogni anno, c'è anche questi costi manutenzionali, dovete portarla al cantiere? Al cantiere qui vicino al porto, lo fanno, c'è la nautica qua. Ah, qui a Roccello? Sì, 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 sta funzionando bene. C'è un cantiere che sta funzionando. Siete contenti anche del servizio? Sì, sì, sì. Senti, come va in questo mese d'agosto? Meglio o peggio? Tenendo conto anche il tempo che è un po' particolare, molto caldo, scirocco, vero? Guarda, fino a giorni dietro abbiamo pescato bei pesci, diciamo. Ah, sta bene, sta bene. Sì, che non ci lamentiamo. Però ora, non lo so se è questo tempo caldo, diciamo, sto periodo, stiamo prendendo di meno. Comunque, di meno. Senti, il mare nostro rimane pescoso? Guarda, una volta era più pescoso, quando ero bambino. Adesso però ci sono dei periodi che non ci lamentiamo. Lavoriamo per la giornata, diciamo, non è che dobbiamo fare i palazzi. Non ci si arricchisce. No, 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 però stiamo bene, stiamo bene, non ci lamentiamo. Vincenzo, ti faccio tanti auguri, se tu puoi prendere in braccio tua figlia, io la facciamo vedere, che è simpaticamente, è a bordo di questa straordinaria imbarcazione. Come si chiama la bambina? Segue sempre il papà? Come ti chiami? Grazie. Senti, come si chiama? Maria Grazia. Maria Grazia, Maria Grazia. Guarda lì, così zii, nonna e tutti ti possono guardare, ti possono vedere in televisione. Senti, ma ti piace questo lavoro del papà, il pescatore? Sì. E gli vieni a tenere compagnia al tuo papà? Sì. Quindi staresti qua tutto il giorno? Senti, gli facciamo vedere gli occhi azzurri alla telecamera? E dal varchiceio, diciamo così, di Vincenzo, io ringrazio i telespettatori che hanno voluto seguire anche questa puntata di Gente di Mare e Vincenzo è proprio Gente di Mare, su questo autentico DNA, vero? La generazione. Sì, è tutta la generazione, diciamo, tutta vive di pesca, ha sempre lavorato sul bare. E quindi con veramente, con l'ultimo pescatore di roccella, autentico anche nel DNA, io vi ringrazio, do l'appuntamento ovviamente alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, mercoledì sera, su Telemia per un'altra puntata straordinaria di Gente di Mare, abbiamo conosciuto come, quali sono gli attrezzi e come si lavora nell'ambito della pesca locale, come vedete è un mestiere molto sacrificato che spesso non dà grandi frutti, però alle spalle, l'avete visto con Vincenzo, c'è una grandissima e straordinaria passione che è quella appunto del mare, che rimane un amore, vero? Sì, ringrazio anche Telemia per queste puntate bellissime d'estate che sta facendo e ha conosciuto molte persone e anche delle belle storie. Grazie, grazie ancora. Abbiamo seguito la scorsa puntata i corsi di vela, una vera e propria passione che è stata anche sviluppata per i più piccini, lo ricorderete, giovanissimi, 6, 7, 8, 9 anni che imparano ad andare in barca a vela, tutti in una settimana, quindi una passione che viene alimentata e noi questa puntata vogliamo ritornarci per capire ancora qualcosa in più sulla Lega Navale di Roccella Ionica e su come questi ragazzini hanno un approccio straordinario con il mare e in particolare con l'utilizzo di imbarcazioni perfettamente ambientaliste al 100%, l'utilizzo solo della vela. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Novi. Captato Kathryn. plastics proseguitorializing come vi lascia fattiga una passione per la vela. Allora gli ho detto se mi iscriveva Senti, e quindi da quant'è che sei iscritto tu? Meno di cinque giorni perché l'allenamento dura una settimana Quindi una settimana di allenamento duro e si impara a portare la barca a vela? Sì Tu ci hai già provato a guidarla da solo, al timone, con la vela? Sì, ci ho già provato, ho provato a virare là dove c'è la boha gialla, oltre la boha gialla da solo E sei riuscito da solo, qual è stata la prima lezione? Che cosa ti insegnano quando sali per la prima volta su una piccola barca a vela come questa che noi vediamo alle tue spalle? Ti insegnano che devi imparare Guardiamo la telecamera così ci guardano anche a casa La cosa più importante della barca a vela, la prima cosa che ti insegnano è virare Però la prima cosa è stare attenti Stare attenti a che cosa Gabriele? Perché prima sono andato con una bambina che si chiama Cecilia e ci siamo impigliati a una boha E allora alla fine ci siamo tolti da quella boha Ci siamo liberati Ci siamo liberati Quindi ci sono questi pericoli, bisogna starci molto attenti Sì, bisogna starci molto attenti Gli istruttori sono bravi con voi? Sì, sono bravi, gentili e ti dicono tutto, tutto, tutto quello che devi sapere Tu c'è paura del mare? Ora che ho fatto tutte queste virate e ho imparato a non andare con la barca no Prima avevo tanta paura Senti ma il mare ce l'hai nel cuore, tu vivi a Roccella no? No, non vivo a Roccella, sono nato a Cagliari dove io basta che uscivo da casa e facevo qualche chilometro e ero già al mare Senti ma il mare di Roccella ti piace anche di più? Il mare di Roccella è uguale a quello di Cagliari perché l'acqua è profonda, la Cagliari è bella liscia, è uguale Senti allora proseguirai con queste elezioni fino a quando? Fino a venerdì o a sabato E poi? Avrai un patentino per poter portare una piccola barca a vela? Sì, andrò con mio nonno nella barca a vela e non lo so se potrò chiedere ad Antonio se mi farà fare altri giretti con le barchette Porterei tu il timone? Sì porterò da solo il timone Non ci sto Il silenzio fa male Ma così Non c'è niente da fare Tu credi Che con me non ci torni Che vuoi solo restare lontana Da me E vai via In un giorno di sole Enzo Cappelleri che è il vicepresidente Ora parliamo con qualcuno un po' più grande Prima di parlare con i nostri straordinari istruttori Un'idea bella, travolgente Quella di coinvolgere i bambini Perché sono bambini a 6 anni, 7 anni A coinvolgerli e a travolgerli da quest'amore per il mare Quindi lezioni di vela E' una cosa meravigliosa Vedere questi bambini che Vengono magari si avvicinano un po' così timorosi Poi una volta che iniziano non vogliono più mollare Ed è bello vederli che dopo due giorni già di corso Li puoi vedere in acqua Ovviamente non sono dei velisti esperti a questo punto Però hanno imparato già le prime cose Riescono ad andare a beccare il vento nel modo giusto E si divertono moltissimo Ecco, cosa si impara in realtà su una piccola barca a vela di questo tipo? Beh intanto è sempre la conoscenza del mare diciamo Con questa con una barca a vela così è l'inizio La barchetta come puoi vedere è molto piccola C'è una sola vela Però ha una vela che ha tutti gli elementi delle grosse barca a vela Incominciando da oltre allo scafo L'albero, il boma, la randa Ovviamente qui non hanno il fiocco Ma poi imparano a lavorare con le cime Con la deriva, col timone, con tutto quello Sono i primi passi ovviamente Ci sarà molta strada da fare ancora Ma è bellissimo Ecco, la scelta di coinvolgere i piccini, perché? Ma perché purtroppo No purtroppo, dovremmo iniziare dai bambini E purtroppo come tu sai da noi Esiste soltanto il calcio E questo è un peccato perché noi abbiamo un bene immenso che è il mare E non sappiamo sfruttarlo Invece tu passi in un posto qualunque dove c'è un porto, dove c'è una struttura Dove c'è il mare non vedi altro che vela in acqua Qui a Roccella purtroppo questo non esiste Speriamo che Sta cominciando ad esistere E appunto, sta cominciando ad esistere Speriamo che ogni anno Infatti quest'anno che grazie a Dio abbiamo questa bella struttura della Lega Navale Abbiamo visto che i corsi sono molto intensi Passano i genitori, i bambini si entusiasmano E vengono volentieri Abbiamo iniziato i primi di luglio Però ogni settimana dobbiamo fermare le iscrizioni Perché sono già in tanti quelle che vorrebbero E purtroppo l'istruttore ne può seguire sei per settimana Non può farne venti Questi corsi durano una settimana? Una settimana Poi ovviamente se vogliono possono continuare Noi speriamo che Quello che constatiamo è che la maggior parte dei ragazzi Sono ragazzi che vengono in vacanza a Roccella Però dobbiamo dire che quest'anno I roccellesi o i figli dei roccellesi Che sono fuori Vengono e noi cerchiamo di curarci particolarmente Questi ragazzi che ormai hanno 10-11 anni E sono di Roccella Sperando che un domani Prendano loro la Lega E faranno loro sia gli istruttori Che avvieranno i vari corsi Ecco invece per i più grandi Che cosa state immaginando? Per i più grandi attualmente abbiamo due barche Oltre che quelle private grandi Abbiamo due barche della Lega Navale Che sono quelle a sinistra che puoi vedere Abbiamo una terza E diciamo che facciamo corsi vela su misura Si presenta qualcuno E noi abbiamo gli istruttori disponibili E' bene che siano almeno in due Per fare un'uscita E diciamo che con 5-6 uscite Diventano dei velisti Non diciamo esperti Però se la cavano bene In qualunque posto di mare Possono prendere una barca E uscire per farsi un giretto E' un primo attestato Poi ovviamente ci sono le patenti nautiche Che quelle vanno prese a parte Però è un modo per farsi una bella esperienza Ovviamente quello è un altro discorso Per le patenti ci vuole tempo Ci vuole passione Ci vuole un po' di soldini anche E ci sono delle scuole Anche noi come Lega Navale Saremo autorizzati a farli Però non abbiamo ancora la struttura idonea Non abbiamo gli istruttori E le qualifiche diciamo Adatte per poter dare patenti nautiche Ecco Enzo Volendo lasciare un recapito Della Lega Navale In modo che chi vuole vi contatti Anche per informazioni Per chi volesse iscrivere Per chi ci sta seguendo in questo momento Beh su internet abbiamo il sito Oltre il sito Lega Navale Nazionale Abbiamo il sito Lega Navale Roccella Comunque la Lega Navale Roccella È sul lungomare Lato nord Roccella Ionica È aperta tutti i giorni la sede? Diciamo che è aperta tutti i giorni Sei soci disponibili Vengono ad aprire Io ce la sto mettendo tutta Abbiamo parecchi soci che si danno da fare E comunque possiamo lasciare Qualche recapito telefonico Tipo il mio o qualcun altro Perché ci contattino Sia per i corsi Vela Che per tutte le informazioni possibili Per vinta mai con i miei paesi Nel bambone via Nicole è l'istruttrice Ha solo 16 anni E si occupa di queste straordinarie ragazzine Che hanno deciso di imparare Ad andare in barca a vela Lei è la più piccola Quanti anni hai? 8 8 anni per poi salire Nicole allora parliamo di te Innanzitutto come ti nasce la passione per la vela? Non è insolita per una ragazzina o no? Allora sì Soprattutto nel mio caso Perché abitando a Bolzano Comunque il mare sono abituata a vederlo solo d'estate Comunque la passione per la vela Nasce a 6-7 anni Quando ho iniziato a frequentare i corsi Proprio con la Lega Navale Qui a Roccella Ionica E insomma È una passione che comunque Si è sviluppata Con l'avanzare degli anni Ed è più piccina che frequenti i corsi? Sì 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 E insomma Ma che anni ci avevi quando hai iniziato? 6-7 anni come ho già detto E insomma È una passione che Comunque non molla Anche se io vivo a Bolzano È una passione che permane Persiste E ogni volta che scendo in Calabria Non vedo l'ora di Bolzano è il mare Quindi il mare Il tuo mare è quello calabrese Quello di Roccella? Esatto È il migliore che abbia mai visto comunque Perché è quello che mi porto sempre dentro E allora Come hai coinvolto queste ragazzine? Allora Loro probabilmente Insomma Lei Che è la nipotina di Enzo Cappelleri Ha insomma La passione che gli è stata tramandata dal nonno Vero? Invece loro Voi avete visto Gli optimist Andare in mare Ed è comunque Davvero una buona sensazione Vedere queste vele Nel mare O no? Allora Chiediamolo a loro Tu sei un'appassionata di mare Di vela? Sì Ma tu sei salita sulla barca del nonno? Sì Eh? Sì E quindi da lì ti è nata questa passione? Sì Senti Qual è stata la prima lezione che ti ha fatto la tua istruttrice? Quando sei salita in barca che ti ha detto? Qual è stata la prima cosa? E la seconda? E la terza? Che cosa ti dice quando sali in barca? Qual è stata la prima lezione che abbiamo fatto con gli optimist? Le parti della barca Le parti della barca Quindi ti ha spiegato E che parti hanno la barca? Che parti ha la barca? Poppa Prua Poppa dov'è? Davanti o dietro? Dietro E prua? Davanti Allora Senti Il timone chi lo tiene? Tu tieni il timone? Sì Sì Com'è che si parte con una barca a vela? Come bisogna posizionare la vela? Eh Dipende Dipende da cosa? Dal vento Quindi la prima cosa è guardare il vento? Sì E poi la direzione verso il vento? Eh In modo che si gonfi? Sì Senti ma imparate anche a tenere il timone? Sì Certo Che tipo di manovre fate qua davanti? Tu sei appena scesa dalla barca Quindi mi puoi spiegare Facciamo le virate Le virate? Cosa sono le virate? Eh Mi girate Facciamo la telecamera così ci vedono Eh Poserebbe girare con la vela Quindi che fai? I giri? Eh sì Giro la barca nella direzione inversa Senti Per girare a sinistra Verso quale direzione devi posizionare il timone? Verso a destra All'interno Quindi al contrario Finirete a fine settimana questo corso? Sì Però noi ne abbiamo fatto anche il corso precedente Sono di veterani ormai Veniamo tutte le settimane Quindi continuerai? Sì I giretti in barca a vela te li farai? Sì Spero Senti ma hai chiesto a tuo papà di comprarti una barca a vela? Eh ancora no Io sì Molto richiesta Mi l'hai chiesta? Sì Quindi si sta già organizzando? Sì Hai rotto il salvadenaio o ancora no? No Sei pronta per romperlo per la barca a vela? Sì Tu invece? No Ce l'ha già? Ce l'ha già? Sì No No Sì 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 Sapete capire a mio cuore, lo che c'era in lui, perché non avevi il valore di vedere chi sono? Perché non senti lo che sta così vicino a te, solo il ruido di fuori e io che sto a un lato, perché non ho voglio dire che non merezco questo, perché è probabilmente che lo merezco, però non lo voglio, per questo me voy, che lastima, però adios, me despido di ti e me voy, che lastima, però adios, me despido di ti e me va, perché sei che me espera algo meglio, Alguien che sepa darne amor, del se che indulsa la salia, se che salva il sole Proseguiamo questo nostro viaggio a Gente di Mare, sempre alla Lega Navale di Roccella Ionica, con questi straordinari corsi per i più piccini, corsi di vela, lo chiediamo ad Antonio, che è un istruttore del posto, di Siderno, ecco Antonio, innanzitutto come nasce l'idea di fare questi corsi, tu sei un appassionato di mare, immaginiamo, di fare questi corsi per i più giovani, piccolissimi, a sei anni. Abbiamo iniziato già con il circolo che avevamo a Siderno, col dottore antico, circolo nautico, altro, Ionio, Roccella, Mare di Siderno, e facevamo corsi per la FIB, poi con la Lega Navale abbiamo iniziato più che altro mio figlio a fare corsi qua a Roccella per la Lega Navale e teniamo questi corsi che durano una settimana e che danno una preparazione di base. Quello lo facciamo per avvicinare il più possibile i ragazzi al mare e soprattutto per togliere, questo lo dico io, il più possibile gente ai motori, per diminuire il numero dei motori. Meno rischi forse con la vela? A parte i rischi, meno inquinamento, meno rumore. Che caratteristiche servono per poter praticare la vela? Qualunque bambino per praticare questo tipo di vela, con queste barche di iniziazione, che sono degli optimisti, qualunque bambino di età compresa tra i 7 e i 13 anni la può svolgere efficacemente. Deve saper nuotare ovviamente? Sì, anche se qualche bambino non sapeva nuotare. Ha usato il giubbino? Col giubbotto salvagente ha preso anche abbastanza sicurezza poi, sì, perché le barche poi diventano abbastanza sicure e noi facciamo in modo che i bambini non abbiano mai paura comunque. Ecco, cosa spiegate loro? L'amore per il mare, la cultura per il mare, il rispetto per il mare? Il rispetto per il mare, ma poi in effetti passiamo più il tempo a dare nozioni di base, a come si sta in barca, a come si governa, a fare nodi e in effetti il tempo molte volte non è sufficiente. In più nelle note che diamo ai bambini, perché diamo dei piccoli appunti, alla fine c'è delle norme da rispettare per avere un aspetto, un atteggiamento di rispetto verso il mare e non inquinare. Ecco, le prime lezioni hanno spiegato i bimbi che abbiamo detto prima, sono le componenti della barca, le varie parti della barca. Poi come si procede? Si procede con un minimo di navigazione. In effetti noi abbiamo vari livelli, il primo livello è andare da A a B, però noi andiamo anche oltre, già nella prima lezione insegniamo a virare e delle nozioni di rotta, di come tenere la barca e di come regolare le vele e il timone. E poi successivamente? E successivamente si fanno dei corsi più avanzati, si va con la virata di poppa, fino a che il ragazzo non avrà il completo controllo della barca e sarà capace in completa autonomia di armarla e di gestirla. Perché non è facile. È abbastanza complicato. Io a qualcuno chiedevo, hai timore del mare? Mi hanno detto, prima sì, ora dopo che sono andato in barca a vela no, non più. Eh sì, esiste questo problema. Sono dei bambini che hanno una sorta di timore per il mare. Però facendoli avvicinare, facendoli con le dovute cautele e con la dovuta gentilezza, oserei dire, i bambini si abituano facilmente e capiscono che c'è poco da temere. E che quando hanno una certa competenza, una certa sicurezza di quello che debbono fare, non hanno motivo di avere paura. Ecco, questi corsi, diciamo, durano una settimana. Come fanno a contattarvi per prenotarsi, per potersi iscrivere? Contattando la Lega Navale e Enzo Cappelleri. Io non dispongo di telefonino perché non sono raggiungibile. Senta, dicevamo, una volta che si prenotano, possono fare questa settimana, questa full immersion, due ore al giorno, tre ore al giorno. Ecco, il problema è questo. Noi facciamo molti bambini e questo è il vero problema. Molti bambini e molti sono però bambini che vengono per le vacanze. Io vorrei che a continuare questa attività e a fare questa attività fossero gli indigeni, i locali. Speriamo che ci stiano sentendo allora, in questo momento. Anche perché io sono vecchio, non so per quanto tempo potrò tenere, mandare avanti una scuola così. Spero, infatti, già c'è Nicole che è un valido sostituto. Spero che ci siano altri a prendere il mio posto perché la vela non deve scomparire, anzi deve tornare a fiorire. Quando ero bambino io c'erano le barche a vela latina. Quindi questo non è uno sport di oggi, è uno sport che risale nei tempi, anche nella Locride. Io non lo definirei uno sport. La vela non è uno sport, è un modo di vivere. In effetti era l'unico mezzo di locomozione quando si andava a pescare. La vela e i remi. La vela era molto più comoda dei remi, sicuramente, e consentiva maggiori distanze. Perciò io penso che i nostri giovani debbano riprendere il contatto con il mare e con la vela. Senta, noi stiamo vedendo inquadrato in questo momento una straordinaria barca a vela. Ecco, questo posto favorisce anche l'ingresso e l'uscita di queste splendide barche. E ci si innamora anche dello sguardo. Sì, sicuramente. Anche se molte volte ci creano una fastidiosa risacca, soprattutto i motoscafi. I motoscafi d'alto mare. Con le loro... Lasciano un'onna abbastanza brutta. Però, vedere questo spettacolo, immaginiamo che sia una cosa molto bella. E anche la vista alla sua parte. Sicuramente. E comunque io penso che vada incentivata sempre la vela. E diminuire questa dipendenza dei motori. Anche dalle barche a motore. Ah, soprattutto dalle barche a motore. Io penso che anche per il diporto bisognerebbe anche andare a pescare come se andava una volta a remi o a vela. Perché in effetti se non c'è uno scopo economico, perché andare a motore? Grazie Antonio, la ringraziamo e ci auguriamo che, insomma, sempre di più si avvicinino a questo sport. E le fiamme di chi sa aspettare, tra le pagine di queste strade. Quando tutto si tramuta in nero, tu sei la cosa più bella che ho. Le distanze non... E allora, Francesco, è la prima volta che sali sulla barca a vela. Sarà un'emozione per te? Sì. Vuoi provare per capire se è una passione che continuerà? Sì. Che cosa ti piace alla barca a vela? Remare. Remare e poi usare la vela dopo, naturalmente, quando arriva il vento. Quindi farai questo giro, sei contento? Sì, sì. Allora ci rirai dopo se ti è piaciuto? Allora, Nicole, facciamo salire Francesco? Sì, bene, vediamo come andrà. In questa prima lezione di barca a vela, dove lo facciamo sedere? Dobbiamo portare prima? Dobbiamo sedere a prua con la cassa della deriva in mezzo alle gambe. E la testa bassa. A testa bassa perché altrimenti la vela... E il boma in testa. Perfetto, allora procedi, dagli le istruzioni. Si porta la barchetta in mare. E come vedete sono delle barchette molto leggere, quindi c'è la possibilità di trasportarle tranquillamente. Francesco per questa prima volta farà il giro in barca. Abbiamo le profondità E donne freddolite negli scialli Che aspettano che cosa non si sa Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa Gente di mare Gente che muore Di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore Per la voglia di andare via Gente di mare E quando ci fermiamo sulla riva Gente che va Ti sguarda l'orizzonte se ne va Gente di mare Portandoci il pensiero alla veriva Per quell'idea di troppa libertà Gente di mare Gente di mare Che se ne va Che se ne va Dove gli pare Dove non sa Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa Il cuore Questo grande fratello blu Al di lante mare C'è qualcuno che C'è qualcuno che non sa Niente di te E allora Ora hanno fatto praticamente questo giro Una virata Un traverso Hanno fatto un traverso Sì Ecco Ha girato di colpo la vela Questo perché Ha virato di prua E quello è quello che insegniamo ai bambini Comunque bambini Orza 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 Vira ancora E ancora sta virando Vedi Cambia posto E dalle mure A dritta Ovvero Quindi oltre al tenere il timone Deve tirare la vela Sì Ma questa è una cosa che i bambini Imparano Nei primi giorni Di solito al secondo o terzo giorno Imparano la virata Quindi E si posiziona la vela In base al vento E si utilizza lo stesso vento Per tornare indietro Eh sì In questo caso sì Perché sta facendo un traverso Altrimenti potrebbe Potrebbe avere altre andature Che sarebbe troppo lungo a spiegare Vedi ora Virata Torna con la stessa andatura Perché il vento È un traverso Ovvero 90 gradi Quindi si deve spostare anche di posizione Sulla barca Eh sì Deve spostare il peso E' sempre strano A fare questa danza Le più brave sono le bambine Più brave le femminucce Sì I maschi impiegano un po' di tempo Specialmente Sara Queste ragazzine che fanno danza Sono favorite in questi movimenti Sono molto agili Molto agili E stanno cambiando Vedi che cambia mano La mano che tiene il timone Poi tiene la scotta Vedi È questo movimento Che complica molto La vita dei maschietti Invece le femminucce Che fanno danza O ginnastica artistica Si trovano favorite Quindi anche un'attività Fisica vera e propria Sicuramente sì E poi dal senso Dell'equilibrio Del rapporto col vento E col mare Sicuramente Secondo me È una cosa che andrebbe Dalle nostre parti Fatta a livello scolastico Fantastico Ecco noi ci auguriamo Che tanta gente Possa vedere queste immagini Si avvicini Ecco si avvicini a questo Tu dici non è uno sport È un modo di vita Ma anche a questo modo di vita A questo sport È un'attività fisica È un modo anche di vivere E rispettare Anche preso dal punto di vista sportivo E di tutto rispetto C'è lo spettagonistico E comunque È abbastanza importante E certo E poi oltretutto Si impara A rispettare il mare Anche dal punto di vista ambientale Perché la vella Lo ricordiamo È un modo pulito Tra virgolette È un modo pulito certo Di spostarsi Senza inquinamento E senza no È un modo pulito 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 Uno sport per i più piccini Ma poi anche i genitori Ti seguono Tu sei il papà di Cecilia È uno sport fantastico Che io ho avuto modo di apprezzare E spero che possa Questo entusiasmo Possa essere trasmesso Ai figli Questo è il motivo Per cui siamo venuti qui quest'anno Tu sei un appassionato di vela Sono un appassionato di vela Iniziato in tarda età Quindi speriamo di riuscire A fare A fare in modo Che loro possano iniziare Da piccolini Ad apprendere questo sport meraviglioso Ma noi qui siamo gente di pianura Navigatori esperti di città Il mare ci fa sempre un po' parura Per quell'idea di troppa libertà Eppure abbiamo il sale nei capelli Del mare abbiamo le profondità E donne freddolite negli scialli Ti aspettano che cosa non si sa Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa Gente che muore Di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore Per la voglia di andare via